Green Pass e scuola si va verso l'obbligo per docenti e personale ATA. Denunce e segnalazioni per la viabilità del sottopasso di via Rossi. Turismo sold out e tanti turisti anche a Gradara e Gabice. Epoca by night. Venerdì torna alla palla l'esposizione dei veicoli d'epoca. Buona serata a tutti voi che state guardando Rossini TV e benvenuti al nostro telegiornale di oggi mercoledì 4 agosto. Partiamo parlando di cronaca e di un'operazione portata avanti dalla sezione antidroga della Questura di Pesaro che nella mattinata di ieri dopo aver attenzionato e osservato i movimenti di un giovane straniero da anni stabilmente residente in questo centro ha proceduto al suo controllo e alla sua perquisizione. Perquisizione che estesa anche all'abitazione dell'uomo ha permesso di rinvenire alcuni barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 40 grammi, nonché tutto il materiale per l'attività di spaccio della medesima sostanza e un sacco contenente quantitativi di approvvigionamento. All'interno di un mobile della sala è stata inoltre rinvenuta anche una busta contenente 4 pasticche di metanfetamina ecstasy, sostanza già sequestrata durante una diversa perquisizione ad un altro soggetto compiuta venerdì scorso a Talacchio di Vallefoglia. Nel frattempo questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto del giovane straniero. Ed ora ci spostiamo a Fano perché si è svolta questa mattina in località Magliano l'intervento per analizzare e valutare le operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno bellico, rinvenuto nella giornata di ieri. Dall'analisi effettuata è emerso che si trattasse di una granata fumogena di fabbricazione inglese, risalente al conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Non contenendo carica esplosiva non è stato necessario far brillare l'ordigno che è stato quindi preso in carico dagli artificieri e consegnato all'esercito per le operazioni corrette di smaltimento. Nel momento in cui gli artificieri hanno constatato la mancanza di esplosivo all'interno dell'ordigno è stata dismessa l'area di sgombero comunicata alle famiglie e data loro la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni. Ed ora parliamo di Green Pass. Oltre le nuove regole che scatteranno a partire da venerdì è attesa per le prossime ore la conferma da parte della cabina di regia nazionale sull'utilizzo della certificazione verde anche per il mondo scolastico, nel quale sarà prevista l'obbligatorietà del pass per professori e personale ATA, ma non per gli studenti. Vediamo. A meno di 48 ore dall'entrata in vigore delle prime misure che introdurranno l'uso del Green Pass in diversi contesti, va delineandosi anche il quadro d'azione per i settori su cui l'utilizzo della certificazione verde non è stato ancora chiarito. La cabina di regia nazionale dovrebbe confermare nelle prossime ore, salvo modifiche dell'ultimo momento, la regolamentazione anche per il mondo della scuola. Diverse le ipotesi circolate fino ad oggi sul tema dei vaccini obbligatori per tutti i soggetti che ne fanno parte. La stretta finale del governo però dovrebbe prevedere il possesso del Green Pass soltanto per docenti e personale ATA, lasciando quindi fuori dall'obbligo gli studenti. Una soluzione promossa dal presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi e dirigente del liceo scientifico Marconi di Pesaro, Riccardo Rossini. Quello che si deve fare è iniziare in sicurezza. Secondo noi, secondo noi dirigenti scolastici, sicurezza significa avere il Green Pass. Tutto il personale scolastico deve essere vaccinato. Con gli studenti magari qualche dubbio in più ce l'abbiamo. Ovviamente gli studenti si possono immunizzare fra loro, corrono meno rischi, però credo che per iniziare in sicurezza si debba avere il Green Pass. Il personale scolastico sicuramente è auspicabile che anche gli studenti lo abbiano. Noi siamo messi piuttosto bene. Abbiamo una percentuale di circa l'85% dei vaccinati fra personale scolastico, divisi in docenti e personale ATA. Però dobbiamo arrivare al 100%. Secondo noi devono essere tutti vaccinati tranne coloro che non lo possono fare per questione di salute. È chiaro che se c'è un docente in situazione di fragilità, quindi per questione di salute, non può vaccinarsi, allora a quel punto noi possiamo anche attivare una didattica a distanza che preveda che il docente rimanga a casa e la classe sia a scuola e veda l'insegnante nel televisore se funziona. Ma se per una questione ideologica di principio no, ci deve essere una normativa chiara, non possiamo lasciare il cerino in mano ai dirigenti scolastici. Il governo ci deve dire esattamente cosa fare con coloro che si rifiutano. Non noi siamo un organo di polizia, noi applichiamo la legge, però è chiaro che se il governo decide che all'interno della scuola entrano soltanto coloro che sono vaccinati o che hanno il Green Pass, noi quello dobbiamo applicare. Come sottolineato dallo stesso Rossini, il comparto scolastico è inoltre in attesa di conoscere le normative aggiornate per il rientro in classe. Tra i principali nodi da sciogliere, oltre al tema della vaccinazione, la conferma sul ritorno completo alla didattica in presenza, l'utilizzo delle mascherine per i soggetti vaccinati e l'organizzazione dell'attività di tracciamento. Ed ora andiamo a comunicarvi i dati relativi al Covid-19 nel nostro territorio regionale. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha infatti comunicato che sui 3.316 tamponi testati nelle ultime 24 ore sono stati 211 nuovi positivi riscontrati nelle Marche, 24 i casi segnalati nella provincia pesarese, che dopo quella di Ascoli Piceno risulta la meno colpita da questo incremento di nuovi positivi. Nell'ospedale pesarese si trovano attualmente ricoverati 4 pazienti in terapia intensiva, 3 nell'area semintensiva, 4 nei reparti ordinari e 1 in quello di ostetricia. Dopo diverse giornate in cui non si verificava, il Servizio Sanità ha inoltre notificato che nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo decesso legato al Covid. Si tratta di un 71enne che era residente a Gradara. Sul fronte dei vaccini, invece, la direzione dell'area Vasta 1 ha comunicato nuove tappe in provincia per i camper impegnati con le somministrazioni. Il 5 agosto sarà a Monte Copiolo, il 6 agosto a Monte Grimano, il 9 sarà la volta di Tavoletto, mentre l'11 il camper si fermerà a Mercatino Conca. Il 13 agosto l'appuntamento sarà a Sasso Feltrio, mentre il 16 a Carpegna. Chiude la lista di queste nuove date frontino, dove il mezzo arriverà il 18 agosto. Il punto vaccinale itinerante sarà aperto dalle 9 alle 12. Non sarà necessaria la prenotazione, basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento d'identità. Ed ora torniamo a Pesaro per parlare di viabilità nell'area del sottopassaggio di Via Rossi, il tratto stradale che collega il centro storico al quartiere di Pantano. Tante sono le segnalazioni per i vari sinistri che si registrano nella zona ormai da anni e e il più recente, verificatosi qualche giorno fa, ha riaperto il dibattito sulla circolazione delle tante auto e delle tante bici che vi transitano quotidianamente. Allora vediamo il servizio di Edoardo Orazzi. Ci troviamo questa mattina davanti al sottopassaggio che collega il centro della città di Pesaro al quartiere Pantano, più precisamente tra l'inizio di Via Rossi e la fine di Via Bixio. Proprio in questo tratto stradale, nel quale un elevato traffico di mezzi si trova a circolare quotidianamente, si è verificato l'ennesimo incidente. Il sinistro, che fortunatamente non ha registrato conseguenze gravi o di rilievo, ha comunque riaperto il dibattito, soprattutto sui canali social, sulla viabilità dell'aria e sui diversi episodi che, troppo spesso, infrangono il rispetto delle regole da parte di chi si trova a transitare nella zona. Le principali problematiche denunciate dai cittadini riguardano, per lo più, la folta circolazione di biciclette, che in diverse occasioni mancano di seguire le corrette indicazioni stradali. Non sono una novità, infatti, le segnalazioni di ciclisti che percorrono contromano e quindi verso il centro l'intero asse di Via Rossi, nella quale la regolare circolazione a due ruote è consentita unicamente in direzione Pantano. Altrettante volte è stato segnalato il passaggio di biciclette sui marciapiedi e nel tratto di sottopassaggio dedicato ai pedoni per evitare l'attesa al semaforo. Ci sono molte biciclette che transitano sui marciapiedi anche in modo veloce, quindi quando usciamo dal negozio una cliente esce, infatti è successo due volte che l'hanno presa sotto, quindi è un problema anche una cliente con un bambino piccolo, un passeggino, quindi incomincia ad essere un problema e in più vanno anche contromano sulla strada, quindi veramente rischioso. Un problema che dura da un po' di tempo? Da anni, diciamo sì, parliamo di anni sì. Il passaggio corrosso nei vari punti dell'incrocio è stato denunciato più volte anche per le automobili che in diverse occasioni si trovano inoltre a viaggiare a velocità elevata, una situazione pericolosa visti anche gli attraversamenti pedonali adiacenti proprio ai semafori. Tutte situazioni che nel tempo hanno portato a registrare incidenti principalmente tra i mezzi citati, auto e bici. Tra i commenti comparsi in merito alla discussione, diversi sono stati gli utenti che hanno lanciato la possibilità di modificare la viabilità e la circolazione della zona. Tutte ipotesi difficili da realizzare. Come ha evidenziato l'assessore all'operatività del Comune di Pesero, Enzo Belloni, il quale è intervenuto ai nostri microfoni e ha sottolineato come sia per i ciclisti che per le automobili sia necessario rispettare le regole di circolazione. Misure alternative faccio fatica a pensarle. Ieri leggevo sui social due mini rotatorie, addirittura allargare il ponte della ferrovia. Quello di allargare il ponte della ferrovia è fante ingegneria, può diventare, pensando che ci sono le case a destra e a sinistra. Solo per avere un'autorizzazione per aprire un parcheggio passano sei mesi, figuriamoci, per fare un ponte dove dovresti in teoria chiudere la linea ferroviaria. Non so per quante ore al giorno e per quanti mesi durante l'anno, quindi vale la pena aspettare tre minuti, rispettare il semaforo come dovrebbe sempre essere e magari non tutti facciamo per evitare poi problemi al ciclista che passa con il rosso, all'autobinista che magari si deve prendere una responsabilità che lui non ha perché poi quando qualcuno si fa male penso che la coscienza ce l'abbiamo tutti. Possiamo ragionare e scatenare tutti i tecnici del web ma io penso che la soluzione vera è quella che c'è e che si sta attuando adesso insomma, quindi il semaforo. Mentre leggevo anche su via Flaminia e via Fratti, lì una rotatoria potrebbe essere in qualche modo ipotizzabile. Una volta realizzata l'interquartiere di Muraglia, pensare a una viabilità differente in quel tratto via Rossi e via Bifio mi sembra difficilissimo. Presenze da sold out nell'intera riviera del San Bartolo. Ai dati incoraggianti della stagione pesarese di cui abbiamo parlato qualche giorno fa si aggiungono infatti i numeri in crescita dei flussi turistici sia a Gabice che a Gradara. Ne abbiamo quindi parlato con i relativi sindaci. Si apprestano a registrare il maggior numero di presenze nel mese più caldo dell'estate i territori della neonata riviera del San Bartolo. Se la quasi totalità degli alberghi pesaresi è pronta a sfiorare il tutto esaurito nelle settimane precedenti e successive al ferragosto, anche Gabice e Gradara si preparano ad accogliere il flusso turistico più importante per la stagione 2021. Proprio a Gabice Mare gli operatori hanno già evidenziato numeri in aumento rispetto all'anno passato, con prenotazioni che traghettano le strutture ricettive verso il sold out fino ai primi giorni di settembre. Sentendo anche gli operatori economici, quindi albergatori e ristoratori, sicuramente sono numeri ancora più importanti rispetto allo scorso anno, ma lo scorso anno partivamo da un presupposto che si era iniziato tutto a fine giugno. Quest'anno già giugno è andata molto bene. mi dicono che le protezioni sono molto buone fino a agosto, fino alla prima settimana di settembre, quindi si già si fa fatica a trovare dei posti per dormire, per alloggiare a Gabice Mare, quindi questo ci fa ben sperare. È chiaro che adesso c'è tra virgolette l'incognito del Green Pass, ma aspettiamo che il governo delini in maniera chiara un po' la normativa da applicare soprattutto alle attività al chiuso, quindi penso agli alberghi che hanno la cucina come quasi tutti all'interno, quindi bisognerà capire se anche per loro vale il Green Pass. Spero che si trova un accorgimento che possa permettere quantomeno di concludere sempre in sicurezza questa stagione. Più che positivi anche i dati di Gradara, dove l'incremento di presenze permette di superare i numeri registrati nell'estate del 2019, l'ultima prima dell'esplosione del Covid. Molto bene i dati che abbiamo, che sono gli ingressi alla Rocca e i parcheggi, e la Florenza è superiore al 2019. Questo anche sicuramente è dovuto alla difficoltà comunque ancora del spostarsi all'estero, quindi che è agevole, favorisce il turismo interno. Siamo molto contenti, è partito anche il piccolo Magic, proprio ieri che tutti i lunedì di agosto vedrà il borgo ricordare il grande Magic Casso, che non è possibile per ovvi motivi allestire in grande stile, però tutti i lunedì questo piccolo Magic, sempre in sicurezza, ci ricorda che comunque questo periodo potrà finire e dovrà finire e tornare, sperando nel 2022, a rifare anche i grandi eventi. A Gradara i numeri sono in crescita anche per gli accessi e per le somministrazioni effettuate all'Hub vaccinale, allestito all'interno del Palazzetto dello Sport. Non ci fermiamo grazie all'annuncio del governo e di Draghi e l'avvio del Green Pass, sicuramente c'è stato un ritorno ai numeri con cui abbiamo iniziato e anche superato, 260 sabato scorso, 360 il sabato precedente, quindi sicuramente il nostro territorio, che era quello rimasto un pochino più indietro come percentuale anche di vaccinazione, sta recuperando velocemente su questa spinta del governo che è molto positiva, nella speranza e nella certezza anche di cominciare un autunno in sicurezza e soprattutto con le scuole in presenza. Dalle Ferrari all'intramontabile 500, le auto che hanno segnato la storia saranno in mostra alla palla di pomodoro. Torna infatti Epoca by Night, un'esposizione di circa 40 veicoli d'epoca, l'appuntamento è fissato per venerdì 6 agosto dalle 18.30 alle 23.30, una serata che va ad arricchire chiaramente il calendario degli eventi pesaresi. Vediamo le interviste. Il club Dorino Serafini chiaramente è sempre all'avanguardia quando si tratta di parlare di manifestazioni di qualità, in questo caso anche con l'aiuto di Asia e soprattutto della terra dei piloti e dei motori, si creerà una cartolina credo indimenticabile per i turisti ma anche per i pesaresi che si troveranno venerdì sera a passeggiare per il Piazzale Libertà, intanto perché questo raduno veramente importante tiene insieme anche questa installazione a terra che verrà realizzata con questa grande immagine per cui sembrava di cadere dentro il Mar Rosso del Museo in Egitto che quella sera inaugurerà per il Rossini Pro Festival con la prova generale, ma soprattutto perché attorno avremo appunto auto da sogno, auto da sogno d'epoca, dalle Ferrari alle 500, ma tutto in un viaggio nel tempo fatto da grandissimi collezionisti, alcuni che già conoscono la sua età, alcuni che la scopriranno in questa occasione, quindi anche una bellissima occasione di incontro a Pesaro per amanti del bel vivere, del buon gusto, della bellezza italiana che ha fatto grande Pesaro a partire dai motori, ma che ha fatto anche tante immagini dell'Italia all'estero attraverso appunto la bellezza dei nostri marchi automobilistici. Lo scopo è quello di far conoscere il mondo delle auto d'epoca, il nostro club che c'è a Pesaro da ormai 35 anni è federato all'ASI, che è l'associazione nazionale delle auto d'epoca e noi curiamo tutto quello che serve per poter far diventare una vettura d'epoca, le certificazioni, tutte le agevolazioni che si possono avere eccetera, e questa esposizione è anche lo scopo di far conoscere a appassionati o anche a gente normale tutto quello che è, che ruota intorno a questo mondo. Che tipologie di auto sono? Tutti i tipi di auto, dalle utilitarie alle auto più lussuose o sportive. ecco, la più piccola è una 500 Fiat, ci sarà anche una 500 Fiat molto particolare che in pratica è un fuoristrada, tanto per darvi un'idea particolare guardandola somiglia che ha una mela, tanto ecco, e poi ci saranno alcune Ferrari, fra cui due o tre rarissime, quindi che dovremmo poi stare attenti anche perché sono pezzi veramente particolari, quindi è proprio tutto quello che riguarda la parte dei motori d'epoca. Arrivano 11,5 milioni per il porto di Pesaro. Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi, che ha sottolineato l'impegno della giunta marchigiana, in particolare del presidente Acquaroli e dell'assessore Baldelli, per centrare questo importante risultato, grazie al quale, ha ribadito Baiocchi, si potranno cantierare lavori necessari per rafforzare il ruolo del porto pesarese nel mare Adriatico. Sarà una palestra di valori, tutta da vivere, quella in programma venerdì 6 agosto, dalle ore 21 nella pista polivalente di Case Bruciate, per il nuovo appuntamento di Reggbull, progetto promosso dal Comune e rivolto ai giovani e alle famiglie, che torna a coinvolgere il pubblico con le storie di vita di due atleti paraolimpici di Pesaro, l'atleta ipovedente Anna Maria Mencoboni e il campione di basket della Federazione Sport Sordi Italia, Peter Pozzoli. Dal 6 agosto torna Pesaro Village, gli animatori cittadini arriveranno in piazzale d'annunzio che ogni mercoledì e venerdì fino al 3 settembre si trasformerà in un piccolo villaggio dei divertimenti, dalle 20.30 ci sarà spazio per intrattenimenti e giochi per bambini. L'iniziativa è a partecipazione libera e gratuita e rientra nel progetto di animazione e valorizzazione della zona di Levante, promossa congiuntamente dall'Associazione Pesarese Albergatori e dal Comune di Pesaro. E continua la ricca rassegna di eventi culturali ed intrattenimento della stagione estiva dell'Arena BCC di Fano. Venerdì alle ore 21.30 risate assicurate con lo spettacolo della Compagnia Teatrale del Gallo. Vediamo. Paolo Cioppi è il regista della Compagnia del Gallo. L'abbiamo visto che si intitola Questa dove la metti. Ma cosa mettiamo? Cos'è questo da dove la metti? Un terzo incomodo. Quindi è la storia di una persona che ha due mogli e quindi si deve dividere fra due case, ha tutta una sua gente di orari eccetera. Poi alla fine dopo un incidente capita un terzo incomodo che è un'altra donna o chissà chi è. E da lì per nascondere il tutto deve chiedere aiuto a un suo vicino di casa e inizia una bugia dietro l'altro. E' la classica commedia degli equivici molto divertente. Noi con questa commedia abbiamo vinto il Festival regionale di Varano, il Festival di Aletale. E abbiamo vinto altre manifestazioni. Dove siamo andati con questa commedia abbiamo sempre vinto dei primi perché è una commedia, direi, non lo dico in maniera molto divertente. Il Festival di Varano è stato nominato e parliamo di Monte Conero. E' veramente un evento estivo che richiama tantissime persone, tantissimi appassionati. Perché veramente, oltretutto, la cultura del dialettale nella nostra regione è veramente molto forte. Sì, è molto forte. Ci siamo trovati molto bene, come d'altronde anche qui. Lì abbiamo vinto molti primi, ma anche qui, anzi, ringrazio il Presidente della Proloco, Gino Bartolucci, che ci invita ogni anno. Anche questa commedia l'abbiamo proposta qualche anno fa, devo dire. Adesso col Covid non avevamo una nuova, ma ci ha chiesto proprio questa, di riproporla. E noi lo facciamo molto volentieri. Speriamo di ridivertire tutte le persone insieme a noi, che noi siamo amatori, amatori, quindi senza tante pretese. Però una risata senza mascherina in questi tempi, noi speriamo tutti di poterla concedere e fare insieme col pubblico. Quanti anni lavorate? Una brevissima storia della vostra compagnia. Questa è la storia. Allora, questa mi devo dichiarare io, perché la compagnia nasce nel 1976 addirittura. La compagnia nasce nel 1976. L'unico superstite sono io. Sono rimasto Presidente e Regista per quello. Sono solo io. E' nata, ai primi anni facevamo soltanto sketch. A una manifestazione canora, che si chiama Gallo d'Oro, a Gallo, ho presentato tantissime, non so, una quindicina di volte. Poi facevamo solo sketch. Poi ci siamo messi a fare commedia. Anche se devo dire che la prima commedia che abbiamo fatto è stata nel 1977 i Promessi Sposi. Allora eravamo liceale e quindi i Promessi Sposi è stata la prima commedia che abbiamo fatto. Complimenti, ci divertiremo di sicuro. Grazie, grazie. No, spero di sì, anzi sono convinto, ma non lo voglio dire. Grazie. Ed ora un servizio dedicato al ritorno di una tradizione estiva pesarese. Questa idea è che secondo noi bisogna tirarle fuori per poter stare in piedi e andare avanti con le attività. Abbiamo rispolverato la vecchia tradizione della Saccomandi che vendeva decenni indietro il cocomero davanti alla caserna dei militari. Quindi mi ricordo che si faceva la fila per assalare il cocomero. Abbiamo avuto la fortuna di individuare un cocomero di altissima qualità. Quindi ci siamo detti perché non rispolverare questa vecchia tradizione. Abbiamo parlato con diversi clienti, anche dei personaggi, compreso il sindaco, e hanno apprezzato tutti questa idea di assaggiare il cocomero. Noi, visto l'estate torrido, di un caldo quasi insopportabile, abbiamo pensato di proporre alla nostra clientela, anche ai turisti, qualcosa di fresco. Abbiamo anche una novità, il cocomero incrociato con l'ananas, in cui è una pasta diversa, un sapore diverso, che sta avendo molto successo. Nel medesimo tempo viene abbinata la pizza, la gelateria, la pasticceria e tutto quello che abbiamo. Abbiamo granite, cioccolato, estratte di frutta e verdura. La gente è già apprezzato, ma già dai preparativi la gente si fermava, i clienti, a chiedere, e volevano già mangiare prima di esporla. Quindi abbiamo avuto molto interesse e molti complimenti, più che altro per l'idea, l'iniziativa. Poi stiamo studiando per altre iniziative per Natale, che per adesso non ci pronunciamo. Ed in chiusura del nostro telegiornale c'è anche una notizia di sport, in questo caso di calcio, perché nel fine settimana la Vis Pesaro disputerà una gara amichevole contro la Nazionale della Repubblica di San Marino. La partita è in programma sabato 7 agosto allo stadio Tonino Benelli di Pesaro, con calcio d'inizio alle ore 10.30. L'incontro si disputerà a porte chiuse per il pubblico, con accesso consentito ai soli giornalisti e fotografi degli organi di informazione. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, ma andiamo a vedere la programmazione di questa sera su Rossini TV. A partire dalle 21.15, eccellenze a Palazzo, il reportage di un evento che si è tenuto in Carpegna e che è la mostra a mercato dell'artigianato artistico delle Marche. A seguire, intorno alle 21.35 circa, vi mostriamo questa nuova struttura che è stata inaugurata a Tavuglia, si chiama Yellow Park, una struttura dedicata proprio ai bambini. Quindi non perdetevi questo appuntamento perché può essere anche un'idea interessante per far divertire i vostri bambini. E allora grazie come sempre per averci seguito sul nostro sito rossinitv.it potete rivedere la replica di questa edizione del nostro telegiornale, così come anche nella nostra pagina Facebook, rivedere tutti i servizi. Grazie e buona serata.